Avete mai sentito l'espressione più realista del re? Probabilmente sì. E se non l'avete mai sentita, è un comune detto popolare. Indica quelle persone che si manifestano nel loro sentire, nel loro agire, nel loro parlare, come ancora più entusiaste della persona che c'è al comando, ancora più leali di loro, più credenti in loro. Insomma, definiteli pure dei fanatici, nel senso inglese del termine. Fanatic, da qui fan. Ma in questo caso non parliamo di una cheerleader o di un semplice tifoso, no, parliamo di un politico. Un politico che ha segnato una parte importante della storia europea, quella del secondo dopoguerra, con delle scelte a volte decisamente spiazzanti e che ha improntato le proprie decisioni in una dottrina, in una dottrina unica, univoca e in cui ha creduto fino all'ultimo giolo della sua vita. Una dottrina ritenuta da molti politologi come una delle grandi divisioni del ventesimo secolo. E non parliamo di unità da combattimento, ma di capacità di dividere, di spaccare in due l'opinione pubblica. O ancora di più, la possibilità di interferire nel dibattito politico. Parliamo dello stalinismo, di quella dottrina politica che prende il nome da Iosef Vissarionovic Giugasvili, Il arte Stalin. A lui abbiamo già dedicato un video. Ma questo non è una seconda monografia su Stalin, non è un nuovo video a provvedimento su di lui. Semmai su quello che è stato definito, a ragione, il suo più entusiastico fan, o meglio ancora, il suo ideale erete. Al di fuori dell'Unione Sovietica, però. Oggi parliamo di Enver Hoja, il dittatore dell'Albania, l'ultimo stalinista d'Europa. Quando Stalin muore, nel 1953, l'Europa è già divisa in due. A Occidente, il blocco occidentale, liberale, capitalista, chiamatelo come volete. Il primo mondo, a oriente, il secondo mondo, quello socialista, quello sovietico. Il terzo mondo sta ancora nascendo, ancora a livello embrionale. A separare i due mondi c'è la famosa cortina di ferro, ne abbiamo già parlato tante volte. E chi più chi meno, nei vari stati definiti satelliti dell'Unione Sovietica, ci sono delle figure preminenti che a poco a poco prendono il potere. C'è chi è un semplice lacche del potere sovietico e c'è chi reclama maggiore indipendenza. Pensate al maresciallo Tito, che viene scomunicato dal Cominforme già nel 1948 e che ufficialmente esce dall'alleanza sovietica già a fine anni 40, rimanendo comunque contiguo al mondo socialista. Oppure pensate a Nicolae Ceaușescu, il dittatore rumeno, che avvia una propria dittatura personale con tanto di culto della personalità alla faccia del collettivismo e che diventa il vero padrone del paese carpatico. Oggia è tutta un'altra cosa. Oggia resta un fedele di Stalin anche dopo la morte del dittatore georgiano e lo manifesta pochi anni dopo, nel pieno del periodo della destalinizzazione, ossia di quel periodo in cui in Unione Sovietica vengono poste inizialmente in discussione e poi censurate fortemente. Le opere dello stesso Stalin si critica aspramente le sue decisioni, soprattutto quelle più pesanti. Pensate ai piani di collettivizzazione, alla grandissima carestia Lododomor in Ucraina, alle repressioni brutali dei kulaki prima e poi dei cosacchi, dei georgiani riottosi, dei ceceni, delle minoranze che si erano opposte al potere. Tutto questo viene ridiscusso, viene criticato. Da un po' tutti che seguono ciò che dice Nikita Khrushchev, e anche di Khrushchev abbiamo già parlato. Da un po' tutti, tranne uno, quella notevole eccezione è lui, Enver Oja, che non ammette assolutamente critiche a quello che non è tanto il proprio idolo, non parliamo di questioni ovviamente sportive o musicali e artistiche, no, parliamo proprio di modello, un modello politico, un modello verso cui Oja si è sempre ispirato, sin da quando aveva abbandonato la Francia, dove era andato a studiare, non completando gli studi, per recarsi a Mosca, una prima volta, nel 1938. Ma per capire tutto ciò, dobbiamo compiere un robusto passo indietro nella storia. Bisogna andare al 1908, in Albania, un'Albania che sta emergendo poco a poco come entità indipendente, in quel marasma che sono i Balcani, in cui nasce Enver Oja, figlio di una famiglia musulmana del sud, facente parte della secta dei Bektashi. Una setta che parecchi decenni prima forniva ai Giannizzeri, il famoso corpo scelto della Guardia Ottomana, poi smembrato e annullato in seguito a diverse rivolte. Ma l'Albania è il paese che ha dato moltissimo alla sublime porta. Pensate alla didastia regnante in Egitto. Ebbene, il suo capostipite, il primo Pasha, era albanese e si era inserito in un vuoto di potere grazie alle sue capacità strategiche, tanto come politico quanto come militare, ristrutturando un'intera area centrale per l'impero, instaurando un proprio potere personale. Gli albanesi all'interno dell'impero ottomano occupavano una buona fetta della società, una fetta piuttosto agiata. Certo, non sono tutti di etania albanese i maggiorenti dell'impero ottomano, ma molti di questi effettivamente trovano un posto nel governo della sublime porta o nelle sue diramazioni locali, soprattutto europee, ma non solo. Non tutti gli albanesi sono musulmani, nella notevole aliquota sono cristiani, ma in quel periodo, chi si era convertito all'islam già da qualche decennio o da qualche secolo poteva vantare su decisi vantaggi, gli stessi che si erano visti in Bosnia e che anche lì avevano portato la stragrande maggioranza della popolazione bosniacca a scegliere la conversione. Ma questo non è un video religioso. Torniamo a Enverogia e alle sue radici. Suo padre era un mercante, piuttosto agiato, e aveva consentito al figlio di studiare, prima al liceo, a Corizza, in un istituto francese, dove aveva manifestato una buona professione alle lingue e poi, grazie a una borsa di studio a 22 anni, direttamente in Francia, a Montpellier, ma da quella università, viene espulso appena un anno dopo. E secondo i biografi, c'è abbastanza confusione sulle cause dirette di questa espulsione. I biografi, anzi gli agiografi di Oggia stesso, parlano di questioni politiche, ossia il giovane Enver avrebbe manifestato una idiosincrasia alle strutture proprie dell'Ateneo, reclamando già le sue simpatie comuniste. Secondo altri, invece, si trattava solamente del frutto di alcune scazzottate con gli studenti francesi, probabilmente per questioni razziste. Non dimentichiamo che la Francia, la Francia multietnica, nasce molto tempo dopo. Negli anni 30 è una Francia in cui i profughi che arrivano da fuori, pensate ai russi, ai russi bianchi scappati dalla Russia dopo la rivoluzione, pensate agli armeni, fuggiti dalle repressioni prima turche e poi sovietiche, pensate ai kurdi, pensate a tante altre categorie che cercano riparo oltre Alpe. Ebbene, i loro figli faticano a integrarsi in una società ancora molto restia ad accettare il diverso. La società francese tra fine ottocento e inizio novecento è piuttosto xenofoba e il caso Dreyfus di cui avete sicuramente sentito parlare lo dimostra. Ma il giovane Ogia non si fa certo scrupolo. Lui vuole continuare a studiare. Si sposta. Si sposta da Montpellier più su in Belgio, a Bruxelles. Si iscrive anche all'università ma non completa gli studi. Nel frattempo ha un lavoro da segretario al consulato locale, al consulato albanese. Grazie a questo lavoro riesce a mettere a parte alcuni soldi, oltre a pagare l'affitto della stanza dove vive. Anche la possibilità di frequentare locali e conoscere diverse persone. Tra la Francia e il Belgio in quel periodo il giovane Enver Ogia conosce Maurice Toré, Harry Barbus, Louis Aragon. Sono nomi forti, pesanti del partito comunista francese. In quel periodo assieme al partito comunista italiano le due formazioni comuniste più forti dell'Europa occidentale. Anche più forti del fronte popolare spagnolo che nello stesso periodo ha preso il potere in Spagna e poi sarà alla guida del fronte repubblicano durante la guerra civile. A proposito della guerra civile trovate il video in diversi capitoli nel nostro canale. Proprio a Bruxelles Enverogia si converte definitivamente. Non abbiura la fede musulmana, o meglio non ancora, lo farà molto più tardi. È una conversione politica, afferma la sua ammirazione per Stalin. Arriva a tradurre in albanese i documenti licenziati pubblicamente dal Soviet Supremo e i discorsi di Stalin stesso. È davvero un fan entusiasta, lo abbiamo detto, e dimostra in ogni modo questa sua adesione al marxismo. Nel 1936 la sua esperienza a Bruxelles termina, la masciata non gli rinnova l'incarico da segretario e lui decide di non chiudere gli studi, di non laurearsi. Torna a casa, a Corizza, in Albania, diventa insegnante di francese, ha messo a frutto almeno la conoscenza delle lingue. A poco a poco nella città albanese mette in piedi il primo nucleo comunista e inizia a fare proseliti. Questo però non va bene. Non va bene in un'Albania che è diventata una dittatura anche questa personale. Ahmed Zogolli, un politico locale, anche lui albanese, da diversi anni ha cambiato la Repubblica Albanese in una monarchia proclamandosi re col nome di Zog I. E Zogolli è un protofascista, è di estrema destra, ha strutturato lo Stato in maniero verticistico e senza vere e proprie opposizioni. Figurarsi un partito comunista. Il giovane Oggia finisce nel mirino della polizia politica, quindi nel marzo del 38 decide di scappare e di andare a Mosca. E viene aiutato dai suoi vecchi amici francesi del partito comunista francese. Sono loro a procurargli i documenti di viaggio e i biglietti per recarsi in treno fino a Mosca. Lì resta oltre un anno inizia a imparare il russo, studia presso l'istituto Marx-Engels-Lielin e segue altre lezioni all'istituto di lingue straniere. Come detto, è piuttosto portato per le lingue. Continua le traduzioni non solo dei discorsi di Stalin, ma anche dei documenti di Molotov, di Kalinin e di altri leader dell'universo sovietico. Ci vuole un po', prima che Enverogia torni a casa. Nella primavera del 1939 l'Italia attacca l'Albania e la annette. Re Zocco è costretto a scappare col figlio neonato in aereo fino a Parigi. L'Albania diventa l'ennesima provincia italiana, la quinta sponda dell'impero coloniale italiano. Dall'Albania nel 1940 Mussolini scatena la sua offensiva contro la Grecia nella cosiddetta guerra parallela che sarà un vero e proprio disastro. Il reggio esercito che nell'intenzione di Mussolini doveva fare una scampagnata una bella gita piacevole di un paio di settimane scendendo dalle montagne albanesi fin giù ad Atene ebbene il reggio esercito è costretto a ripiegare e a combattere addirittura il territorio albanese una situazione imbarazzante. Le forze armate albanesi sono state inglobate in quella italiana ma non hanno una grandissima capacità di combattimento o comunque vengono tenute in seconda linea non fidandosi dell'affidabilità dei soldati locali. Quando Oja torna a casa sua adotta un suo profilo innanzitutto apre un negozio di tabacchi a Tirana è un'attività commerciale lecita ma serve prima di tutto come paravento per il partito comunista locale. Oja torna a casa con l'idea di riorganizzare il partito comunista che chiaramente sotto l'Italia fascista è finito fuori legge. Oja non si dà per vento e continua a intessere la sua tela di relazioni. Nel 1941 esattamente l'8 novembre del 1941 prende la guida del partito comunista albanese ribattezzato poi partito del lavoro e inizia a organizzare la resistenza militare contro l'Italia e contro i tedeschi. Da lì dal nucleo del partito del lavoro nascerà l'esercito di liberazione nazionale che a partire dal 1943 fino a tutto il 1944 lotterà prima contro gli italiani e poi contro tedeschi cetrici serbi e fiancheggiatori locali dei fascisti. Il 29 novembre del 1944 Oja ormai ha una leadership consolidata al punto da poter proclamare non solo la presa di potere ma anche la restaurazione della Repubblica d'Albania di cui si autoproclama leader. Non basta Oja vuol farlo sapere a tutti lui è un fedele alleato di Mosca di Stalin in prima battuta lui stesso decide di modellare la nuova Albania la nuova Albania socialista come uno stato stalinista copia palesemente le strutture sovietiche che vuole replicare a casa sua non contento quando la guerra ormai è finita chiama istruttori sovietici e inizialmente anche jugoslavi per ristrutturare modernizzare il suo esercito l'esercito di liberazione nazionale che ora diventa il nuovo esercito albanese come abbiamo già visto nel video dedicato alla Nato questa presenza di consiglieri militari sovietici e jugoslavi scatena già una crisi diplomatica nel 1946 con le cannonate contro le navi britanniche che stanno pattugliando con mandato delle Nazioni Unite il canale di Corfu un canale che durante la guerra era stato minato dai tedeschi e che le Nazioni Unite avevano deciso di bonificare due incrociatori vengono appunto fatti segno delle cannonate ma riescono a evitare il belgio una squadra di caccia torpediniere poco dopo che passa in rassegna sempre il canale che è stato appena sminato incappano in un nuovo campo minato realizzato sempre con le vecchie mine quelle di fabbricazione tedesca posate ovviamente per ordine di Enverogia che è a mire precise sulla redefinizione dei confini anche marittimi tutto ciò porta alla rottura delle relazioni diplomatiche tra l'Albania e la Gran Bretagna è il primo grande strappo che segna assieme allo scoppio della guerra civile greca il deflagrare della guerra fredda che poi tanto fredda a ben guardate non è mai stato oggi a fa di più se nel 1948 Tito rompe col Cominforme e viene scomunicato Oja riafferma la propria fedeltà all'Unione Sovietica e come detto all'inizio quando l'Unione Sovietica pone in discussione lo stalinismo è lo stesso Oja a non presentarsi con la scusa di un certificato medico alla riunione indetta a Mosca e a criticare da casa sua da Tirana le nuove direttive impartite da Nikita Khrushchev e dai nuovi dirigenti lo stalinismo non si discute per Enverogia che continua insistentemente a modellare il suo piccolo paese come una piccola dittatura sovietica è incredibile l'Albania che guardandola sulle carte è tutto fuorché un colosso diventa un'isola stalinista nel piano del Mediterraneo un'isola fortificata Oja sviluppa una fobia una paranoia al terrore di essere attaccato ma da qualsiasi direzione al terrore della Grecia la Grecia prima democratica e poi dei colonnelli al terrore della Jugoslavia di cui non si fida più da tempo al terrore che l'Italia che fa parte della Nato possa sbarcare nuovamente sulle coste albanesi e allora cosa fa Oja? Fa fortificare l'Albania chiede la costruzione della bellezza di 220.000 bunker postazioni difensive postiere ma anche nell'entroterra postazioni di comando postazioni per conservare armi munizioni esplosivi con cui armare un esercito clandestino in caso di invasione alla faccia di Gladio verrebbe da dire Oja è paranoico è paranoico al punto da non fidarsi anche di molti suoi collaboratori che vengono accusati di revisionismo di antistalinismo di essere dei fedeli di Crusciò chi finisce nelle liste nere di Oja perde il potere viene incarcerato e il più delle volte viene ucciso con una pallottola al cranio Oja è l'emblema per lungo tempo della peggiore dittatura stalinista d'Europa una dittatura sorda sorda a qualsiasi cambiamento anche ad esempio ai cambiamenti che si vedono in altri regimi socialisti pensate alla Cina di Mao il grande timoniere che pure ne combina un po' di tutti i colori pensate alla rivoluzione culturale che per poco non gli costa la poltrona è un altro dei grandi idoli di Oja ma quando Mao muore e quando la cosiddetta banda dei quattro che voleva appropriarsi del potere viene sconfitta Oja sconfessa anche i rapporti con la Cina si isola completamente all'interno dell'universo comunista e lui da solo contro tutti esce anche dal patto di Varsavia non si fida più di nessuno basta la sua Albania basta il suo paese per andare avanti e giusto per evitare contraccolpi Oja si vanta anche di mettere al bando tutte le religioni l'ateismo viene inserito ufficialmente nella costituzione barata dalla repubblica socialista di Albania è un vanto per Enverogia lui stesso rinnega la sua fede islamica dopo già aversi fatto proclamare ateo dai compagni di partito in gioventù pensato peggio che appunto nell'ursa di Stalin dove sì tante chiese erano state convertite in granaio in depositi dove la religione era stata non esattamente messa al bando ma scoraggiata nella pratica no in Albania è peggio non si può praticare nessun culto religioso ma proprio nessuno e questo è molto molto strano potremmo dire grottesco per un esponente dei bektashi una setta che aveva fatto della dottrina sufi la propria ragione di vita e che sul finire dell'impero ottomano aveva abbracciato l'esoterismo della massoneria e si era impegnata all'interno del movimento dei giovani turchi di un altro circasso e massone come Kemalata turchi verrebbe da dire che la storia a volte gioca davvero brutti scherzi è un brutto scherzo lo gioca a Enveroccia la sua salute già a fine anni 60 il leader comincia a soffrire di diabete non bastasse nel 1973 un attacco cardiaco lo sorprende e gli costa molto moltissimo la sua salute inizia a perdere colpi sempre di più i suoi fedeli lo circondano fanno quadrato lui a poco a poco inizia a delegare parecchie delle sue funzioni al suo delfino Ramizalia che prende confidenza coi gangli del potere Oggia fino all'ultimo non intende comunque derogare della sua linea una linea dura ottusa non esiste altro per lui fino al giorno della sua morte nel 1985 l'11 aprile Oggia continua insistentemente a proclamarsi l'unico vero stalinista d'Europa non importa che ormai sia un rottame d'uomo ridotto sulla sedia a rotelle perennemente attaccato alle macchine per la dialisi e con i tubi della flebo nelle braccia non importa prima di tutto viene l'ideologia un'ideologia spietata che fa vittime sono tanti i morti durante la sua dittatura un rapporto di Amnesty International del 1984 un anno prima che Oggia muoia denuncia la situazione dei diritti civili in Albania l'isolamento internazionale cui Enverogia ha sottoposto il suo paese in maniera assolutamente cosciente aveva portato alla perdita di diritti fondamentali non solo il diritto di culto ma quello di libera stampa di libera associazione addirittura il diritto di parola o con Oggia o contro di lui tutto ciò che non rispettava la dottrina del leader era ritenuto contro rivoluzionario quindi pericoloso per lo Stato e dunque da eliminare molto peggio quindi di altre brutali dittature dell'est europeo pensiamo alla DDR pensiamo alla Polonia pensiamo a Cicoslovacchia o alla Romania molto peggio un vero inferno con la morte di Oggia si apre una nuova stagione per l'Albania un'Albania che teoricamente si vive un periodo anche abbastanza buono dal punto di vista economico sotto il dittatore ma che dopo in un ambito internazionale in perenne movimento con la glasnost la perestroica lo sbantellamento della cortina di ferro l'uscita prima dell'Ungheria poi della DDR il crollo dell'Unione Sovietica vedrà anche il crollo delle ultime rimanenze dell'Albania socialista delle ultime eredità di Enverogia le immagini che tutti noi ancora ricordiamo quelle dell'Esodo degli albanesi che sulle navi stracariche sui gommoni attraversano il canale d'Otranto e cercano una nuova vita una nuova esistenza una nuova fortuna in Italia partono da lì è l'ultima eredità di Oggia un paese che aveva investito tutto in armi in bunker in sistemi di sicurezza ma che al suo popolo quel popolo cui lui aveva dedicato addirittura il nome del suo partito non aveva lasciato praticamente nulla e quindi oggi ci possiamo chiedere aveva senso al di là dell'orgoglio al di là dell'ideologia per Enverogia isolare il suo paese definirsi l'ultimo stalinista d'Europa alle prove di fatti no ma per lui era tutto molto logico anzi assolutamente naturale l'ultimo 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 Grazie.